Ciao ragazzi, io sono ProGamerAiChannel 2024 Buoni Puff Epifani a tutti, scusate quello che so per dire parole sbagliate a caso e poi ho rifiutto tutte cose e poi l'occupo di Rubik e poi mi ho cambiato voce No dai scherzo, questa è la mia vera voce quella lettera era una specie di robot Vabbè Un, due, due giorni inizio la scuola che palle Vabbè, fa niente, aspettare con le vacanze ormai e poi promossi a settembre scherzo da... No vabbè, niente, questo video è finito Buoni Puffani a tutti e ciao Rai Sport Rai Sport È Grazie